L'obiettivo è quello di creare cultura non gastronomica, di creare percorsi del vino, di creare un forte connubio tra chi fa somministrazione e chi produce il nostro straordinario vino. Abbiamo tanti produttori che stanno cominciando a diventare anche importanti sui mercati, ma molto spesso ci accorgiamo che nei ristoranti, nei bar, negli hotel vengono venduti altri vini. Ecco, io credo che sia opportuno che i nostri bar, i nostri ristoranti, i nostri vini, quando arriva un turista, quando arriva un cliente, gli propongano i nostri prodotti, ma soprattutto gli raccontino un territorio attraverso i vini. Questo era l'obiettivo. L'abbiamo finanziato con grande soddisfazione. La Giunta a Quaroli ha fatto un progetto di promozione che si chiama Dalla Vigna alla Tavola, che vede come protagonisti i produttori di vino, ma soprattutto per la prima volta, con i soldi della promozione agricola, siamo riusciti a collegare i ristoranti, i bar e gli hotel, facendo anche dei pacchetti turistici. È andato molto bene perché tutta la Regione ha partecipato, ci sono progetti ovunque, dall'entroterra alla costa, quindi è senz'altro un segnale che questo percorso è molto positivo e da rilanciare anche per il futuro. L'obiettivo è quello di valorizzare le produzioni vitivinicoli, vini della nostra Regione, coinvolgendo finalmente il mondo della ristorazione, che è l'interlocutore principe delle nostre cantine. L'associazione dei ristoratori della provincia di Pesorubino ha presentato due progetti, uno coinvolge 15 ristoranti e uno 21, sono prevalentemente ristoranti della provincia di Pesorubino, ma anche alcune di altre province. Ogni ristorante dal 15 settembre al 31 dicembre realizzerà una serata, una serata con la presenza di almeno una cena, con almeno tre cantine, con menu realizzati con prodotti tipici del territorio. La legge regionale espressamente ricorda che devono essere prodotti certificati dopo IGP o presidi slow food. Quindi una trentina di serate per gustare i prodotti del territorio e far conoscere i vini delle nostre cantine. Il vino è un prodotto principe della nostra terra, il vino rappresenta veramente il territorio. Noi abbiamo con itinerario di vino, che è uno dei due progetti, voluto abbinare alla presentazione delle cantine fatte dai sommelier, che debbono spiegare l'abbinamento vino-cibo e la presentazione delle stesse cantine e dei produttori, abbiamo voluto anche abbinare la presentazione del territorio. L'obiettivo è quello di fare una grande campagna pubblicitaria a livello interregionale, di far conoscere i luoghi dove il vino nasce.